Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo è un altro make-up tutorial, o almeno ci proviamo. Per quanto riguarda questo look che ho pensato sempre per San Valentino, se vi siete persi il primo, che è un pochino più strong, un pochino più sexy, ve lo lascio linkato nella scheda info, così avete anche due scelte. Infatti questa, come vi avevo già detto, è dai toni più nude, però sempre, insomma, sbelluccicoso, un po' sexy anche questo, però in maniera un po' più timida, non so come dirlo. Ho utilizzato gran parte della nuova collezione, la Love You So Mochi, questa qui di NYX Professional Makeup. Ho utilizzato il nuovo kit per San Valentino di Nabla, che è questo qui che comprende quattro colorazioni di liquid lipstick, io ho utilizzato la più chiara, sempre per rimanere un po' sobri, però voi potete optare tranquillamente per qualcosa di un po' più eccentrico, questo dipende tutto da voi, anche l'eyeliner potete metterlo, illuminante, insomma, io vi do, come sempre, la mia idea base, quello che farei io, poi sta a voi personalizzarlo, e come vi ho detto anche per l'altro make-up look, se vi va, se lo rifate, taggatemi sui social, così posso vederlo, sono sempre tanto 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 felice quando ricreate uno dei miei look, quindi spero anche questo vi possa piacere, vi auguro un buon San Valentino, a chi lo passerà in compagnia, se no buon Faustino a tutte, perché io festeggio il giorno dopo, qui presente, e io vi lascio il make-up look realizzato. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!